Musica Drangheta Blitz dei carabinieri di Vibo Valencia in tutta Italia. Nell'operazione coordinata dalla DDA di Catanzaro, 26 persone finiscono in carcere, 52 domiciliari, 3 all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nella rete finiscono avvocati, medici ed ex politici, fatta luce sull'omicidio di Maria Kindamo. Uccisa perché voleva rifarsi una vita ed essere indipendente, il procuratore della DDA di Catanzaro, Nicola Gratteri, racconta i dettagli dell'omicidio Kindamo. Uccisa due giorni dopo aver appostato la foto con il nuovo compagno, il corpo dato in pasto ai maiali e di resti macinati con un trattore cingolato. Sacche di resistenza e di interessi nella sanità calabrese. La denuncia del segretario regionale del Partito Democratico, Nicola Irto, nel corso di un evento organizzato dal PD a Cosenza. La sanità è un argomento di dignità, non di campagna elettorale, da occhiuto finora solo slogan. Tutino e Canotto, protagonisti di un'asta benefica. I due attaccanti del Cosenza Calcio partecipano a Cerisano all'asta di beneficenza per l'ematologia dell'annunziata organizzata da Asta Quanto Podemos e la fondazione Lillifunaro. Buonasera, ben ritrovati in nuovo appuntamento con il Tg dell'altro Corriere TV. In apertura la cronaca con la maxi operazione condotta questa mattina dai carabinieri di Vibo Valencia in tutta Italia. Nella rete sono finiti avvocati, medici ed ex politici. Fatta luce soprattutto su un omicidio di indrangheta di rilevanza nazionale, quello di Maria Kindamo. Nuovo step dell'operazione maestrale Cartago Blitz portato a termine questa mattina con l'impiego di oltre 600 carabinieri su gran parte del territorio nazionale. Sono 29 le persone finite in carcere, 52 invece vanno ai domiciliari. L'attività condotta dai carabinieri di Vibo Valencia è la naturale prosecuzione della prima tranche dell'operazione eseguita lo scorso 10 maggio che ha consentito di disarticolare i sodalizi di indrangheta di Mileto e Zungri con le indrine di Briatico e Cessaniti colpendo inoltre le strutture di comando e controllo e l'ala militare e imprenditoriale delle rispettive organizzazioni i cui esponenti erano già detenuti per altra causa e per questo non colpiti dal provvedimento di fermo. Le indagini hanno consentito di ricostruire le dinamiche, i collegamenti e gli interessi imprenditoriali delle consorterie mafiose nella provincia vibonese particolarmente attive nel settore delle estorsioni attraverso intimidazioni e danneggiamenti e danni di aziende edili, imprese ed esercizi commerciali operanti nel settore turistico della Costa degli Dei e dei trasporti marittimi per le isole e olie. Tra le persone coinvolte nell'inchiesta, coordinata dalla DDA di Catanzaro, ci sono nomi eccellenti, figure di spicco già note al mondo dell'andrangheta vibonese e coinvolte in rinascita Scott. Ricostruite anche le condotte di alcuni avvocati per le ipotesi di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nel settore dell'accoglienza dei migranti e per concorso esterno in associazione mafiosa. In carcere è finito l'avvocato Francesco Sabatino, ai domiciliari invece Cesare Pasqua, ex dirigente medico dell'ASP di Vibbo, l'avvocato Azzurra Pelaggi, già candidata alle elezioni comunali di Vibbo Valencia nel 2015, e l'ex sindaco di Briatico ed ex presidente della provincia di Vibbo Andrea Niglia. Ad un indagato è stato contestato l'omicidio in concorso con altri due soggetti di Maria Kindamo attraverso la manomissione del sistema di videosorveglianza della propria abitazione di campagna, limitrofa al luogo del delitto. Nel provvedimento viene anche contestato a quattro indagati l'omicidio di Corigliano Angelo Antonio, commesso a Mileto il 19 agosto del 2013. I carabinieri infine hanno individuato un bunker abbriatico e rinvenuto e sequestrato fucili, armi e munizioni e contanti per oltre 86 mila euro. E ulteriori dettagli sull'efferato omicidio della donna uccisa solo perché voleva rifarsi una vita sono stati forniti nel corso della conferenza stampa che si è tenuta a Catanzaro dalla procuratore della Didia Nicola Gratteri. Questa donna Kindamo dopo il suicidio di suo marito avvenuto l'anno prima rispetto alla scomparsa della donna avvenuta nel maggio del 2016, ha pensato di diventare imprenditrice, di curare gli interessi della terra, di curare i figli, di affrancarsi da quel modus operandi mafioso, da quella mentalità mi fa. Si è riscritta pure all'università, ma non gli è stato perdonato questa sua libertà, questa sua voglia di essere indipendente, di essere donna, due giorni, tre giorni dopo che aveva postato sui social il nuovo compagno, questo nuovo amore, scomparsa. Ci sono duplici cose, duplici aspetti su questa morte. Uno, non gli è stata perdonata questa libertà, la gestione di questi terreni che lei li ha avuti in eredità, questo nuovo amore, gli interessi, gli appetiti di una famiglia di indrangheta su quel territorio, su quei terreni. Tutto questo messo assieme hanno portato ad essere uccisa in modo straziante. È stata data in pasto ai maiali e i resti dei maiali sono stati poi macinati con un trattore cingolato. Questo vi dà il senso, la misura della rabbia che chi ha ordinato l'omicidio aveva nei confronti di questa donna, il risentimento nei confronti di questa donna, che non si poteva permettere il lusso di fare quello che ha fatto, cioè di rifarsi una vita. E l'operazione di oggi non è altro che il proseguo dell'operazione già condotta nello scorso mese di maggio. Due colpi dunque durissimi, inferti dalla DDA di Catanzaro ai locali di indrangheta presenti nel territorio vibonese, già colpiti con l'operazione rinascita Scott, ricorderete bene, della dicembre 2019. Nella Mirino il settore della sanità vibonese, ma anche il settore turistico, attraverso imposizioni ed estorsioni. Azzerare i locali di indrangheta di Zungri e Mileto e far luce sui rapporti tra la criminalità organizzata vibonese, professionisti e politici. L'obiettivo della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro era già chiaro il 10 maggio scorso, con il primo passo dell'operazione maestrale Cartago, che aveva già portato al fermo di 61 persone, con 167 persone iscritte nel registro degli indagati. Un percorso segnato già quattro mesi fa, dunque che il mese successivo aveva portato all'arresto in carcere di 51 persone e 7 domiciliari. Già nella prima tranche dell'inchiesta, gli inquirenti avevano acceso i riflettori sulle infiltrazioni dell'andrangheta della provincia vibonese nel mondo della sanità, a cominciare dagli appalti nelle menze ospedaliere. Un oligopolio di DIT attraverso un rapporto che, nelle ipotesi dei magistrati, si sviluppava con alcuni manager dell'ASP di Vibo Valencia, per un condizionamento delle funzioni dell'azienda sanitaria vibonese definito totale. Gli inquirenti poi erano riusciti a documentare un importante summit di indrangheta in una nota struttura della Costa degli Dei, nel corso del quale ai presenti erano stati impartiti ordini e direttive, mentre alcuni dei fermati avrebbero influenzato e indirizzato le scelte di alcuni dirigenti dell'ASP vibonese dalla gestione del servizio di vetto vagliamento per gli ospedali di Vibo Valencia, Serra San Bruno e Tropea, al presunto rilascio di perizie compiacenti in favore di affiliati detenuti. Con il primo step di Maestrale Cartago, gli inquirenti avevano accertato anche le presunte infiltrazioni all'interno dell'amministrazione comunale di Cessaniti. Secondo l'inchiesta, Filippo Mazzeo, responsabile del servizio amministrativo del comune, avrebbe passato all'ex presidente della provincia, Cianiglia copia dei quiz della prova selettiva, oltre a due prove scritte del concorso pubblico per l'assegnazione di un posto di istruttore direttivo presso i servizi demografici del comune. Cambiamo ora argomento, parliamo di sanità, tema che è stato al centro di un evento, di un incontro promosso dal Partito Democratico a Cosenza. Fra i relatori, la leader dell'opposizione in Consiglio regionale, Amalia Bruni, ed il segretario regionale del PD. Nicola Itto. Nelle fasce più deboli della popolazione, soprattutto calabrese, aumentano le spese per la sanità e per le cure primarie. È un dato cristallizzato, consolidato, in un momento storico segnato dall'inflazione record e dall'aumento consistente, considerevole dei prezzi per l'acquisto di materie prime, la situazione rischia di precipitare. La sanità resta il vero nodo da sciogliere in una regione, come la Calabria, che sta tentando di venire fuori dalle secche di un commissariamento ultradecennale. Ne sono convinti Amalia Bruni, leader dell'opposizione in Consiglio regionale, e Nicola Itto, segretario regionale del PD, entrambi relatori di un evento organizzato dai DEM calabresi al ridotto del Rendano a Cosenza. Nessun passo in avanti, mentre i nostri reparti chiudono, mentre continua la migrazione sanitaria, mentre non c'è una risposta in termini veri di efficienza da parte della sanità calabrese. E ogni giorno ci viene raccontata una tragedia, un qualcosa che non funziona. Non c'è un passo in avanti, non c'è una programmazione, per questo noi chiediamo che vengano ascoltate le proposte del PD. Riorganizzazione, rimodulazione di un assetto legislativo che possa essere realmente di aiuto, perché, vedete, quelle che sono le regioni in sofferenza, che hanno dei piani di rientro, che hanno un commissariamento, sono delle regioni fondamentalmente mandate a morte, così come è stata per la nostra. Dopo gli eventi del cartellone estivo, il Festival d'autunno torna in pieno centro a Catanzaro per una lunga serie di appuntamenti che spaziano dalla musica al teatro, alla balletto. Ce ne parla allora il direttore artistico della manifestazione, Antonietta Santa Croce. Questa sera facciamo il punto della situazione sugli eventi estivi, che sono stati dieci e hanno avuto tutti quanti il sold out nelle diverse location dislocate nella provincia catanzarese in cui si sono svolti. E da venerdì otto, invece, torneremo a Catanzaro, che appunto rimane la culla, il cuore di Festival d'autunno, e si sostegueranno dall'otto settembre al sedici novembre ben sedici eventi. Quindi un invito alla stampa e anche ai Catanzarezzi di seguirci, perché è appunto un cartellone molto variegato, che inizia con una prima nazionale, con uno dei più grandi pianisti del mondo, che è Gonzalo Rugbalcabba, e poi via via propone comicità con Maurizio Battista, il grande ritorno di Carmen Consoli, spettacoli che anche concepiscono un nuovo modo di vedere il teatro, con Machine the Cirque, che propone acropazie, comicità, effetti speciali, quindi veramente uno spettacolo per tutta l'età, e poi la grande danza che ritorna con Eros e Patos, il gradito ritorno appunto di Francesco Colella, che dopo un decennio finalmente recita in una sua produzione al Politeama, e infine per la prima volta in Calabria, Elio e le storie tese. E quindi a Cerisano, per un'asta benefica organizzata dalla Fondazione Lilli Funaro e d'asta quanto Podemos, ospiti d'eccezione sono stati gli attaccanti del Cosenza Calcio Gennaro Tutino e Luigi Canotto. Il Festival delle Serre in corso nell'incantevole borgo Cosentino di Cerisano apre alla solidarietà. I calciatori Gennaro Tutino e Gigi Canotto del Cosenza Calcio hanno preso parte all'asta di beneficenza organizzata dalla Fondazione Lilli Funaro e da Asta quanto Podemos. L'iniziativa sostiene l'operosità del reparto di ematologia dell'annunziata di Cosenza, coinvolge non solo i protagonisti e le maglie del calcio, ma anche le calottine della Cosenza pallannuoto, battute all'asta e consegnate a chi ha deciso di donare. Sono stati raccolti in totale 3.600 euro, utilizzati per l'acquisto di una maschera B-PAP. L'obiettivo di quest'anno è l'acquisto di una maschera B-PAP, che è una maschera speciale che aiuta i pazienti con gravi patologie ematologiche a respirare meglio. Noi siamo ben lieti ogni volta di sposare questa causa, perché attraverso serate come questa è possibile dare poi un sostegno concreto ai reparti dell'ospedale annunziata di Cosenza. Sì, proviamo a non farci mancare niente. Al di là delle battute invece è una bellissima occasione di incontro, anche con altri partner, l'associazione Lillifunaro in particolare, che si occupa da tempo insieme all'altra associazione, Asta quanto Podemos, che sono dei partner che hanno voluto regalarci questo momento di beneficenza. è importante ricordarsi anche delle persone che hanno bisogno, anche in una bella serata di festa, di musica, di allegria e di spettacolo, che è quello coinvolgente del nostro Festival delle Serre. E protagonisti assoluti dell'evento, come abbiamo visto, Gennaro Tutino e Luigi Canotto, che hanno commentato il momento del Cosenza e il loro ritorno. In rosso-blu. Quanto ci tengo a questa maglia, il mio legame con la città, con la tifoseria, con tutti. Per me vale più di qualsiasi altra maglia indossata finora, sicuramente. Le ultime due partite non sono state, diciamo, non sono andate come volevamo. Col Modena, secondo me, abbiamo anche fatto una bella partita, solo che il risultato non ci ha premiato. Col Brescia, invece, abbiamo fatto una partita sotto tono, lo sappiamo. Però, come hai detto, fa parte sicuramente di un percorso che abbiamo incominciato con un nuovo allenatore che ci chiede, molto preparato, che ci chiede di fare cose nuove rispetto al passato, tanti ragazzi nuovi che si dovranno inserire. Quindi penso che comunque fa parte di un percorso che poi, con il lavoro, sicuramente le cose andranno diversamente. Mi sono trovato, alla fine, in una situazione un po' particolare. Però, quando ho seduto il mister, ho subito accettato Cosenza perché per me deve essere un anno importante, un anno dove sappiamo che sarà dura, ma sono convinto che con la squadra che c'è possiamo veramente divertirci quest'anno. Qua, niente, io ho avuto, diciamo, sotto le giovanili, un po' di situazioni dove magari un giovane poteva mollare perché mi avevano detto che non potevo giocare a calcio. Quindi, quando mi hanno mandato via dalla regina al settore giovanile, mi dicevano, no, sei piccolino, non puoi giocare a calcio. E diciamo che per me è stata, devo dire, la mia famiglia, devo ringraziarla perché mio padre mi ha sempre fatto credere in te stesso. Devi sempre credere. E poi, alla fine, aveva ragione. I frutti del lavoro poi si prendono. Per il momento è tutto. Noi ci fermiamo qui. Grazie, come sempre, per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni del Tg dell'altro Corriere TV. Buon proseguimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.